Signore Piau, ma non peggio di questo disonesto che ha scritto luci da labbra, ora rego io guarda che ce ne vuoi un anno, io ce ne darei un anno veramente di galera, uno che ha scrivuto luci da labbra così a volte noi dobbiamo essere ben precisi per specificare le cose, queste nel bagno hanno scritto si prega di non gettare carta nel bc perché sa tu, pap, è lo preciso, ora guardate un caso umano qua davanti una porta, una signorina ha scritto non scotolare la tovaglia fuori perché vanno le middiche sul balcone di Carmelina e i palombi mangiano e cacano la figlia di Carmelina, giustamente ora noi abbiamo questo vizio in Sicilia, questo vizio in Sicilia che posteggiamo veramente davanti le case delle persone, ma davanti la porta, in maniera molto educata, un signore ha scritto, guarda ha fatto un cartello, ha scritto lasciare spazio sufficiente, apertura persiane, grazie, ma c'è chi ha fatto di più, uno ci scrisse, lascia le libri e il passaggio devo entrare ed uscire, a me non c'è stata la mia casa, giusto? questa foto che arriva riguarda il parcheggio di San Vitolo Capo, la lascio leggere a voi direttamente io lo vorrei conoscere a questo qua ma la cosa che mi fa impazzire più del cartello è la visca di fish allora andiamo avanti, questa a Palermo, ironia dei palermitani, ci misero a lasciare libero uscita, carro armato, fai toghi tu, uno invece sempre a Palermo ha messo non so stare davanti il magazzino, nota bene, vale anche per la 126 grigia, ci vede che a qualcuno si c'era a posteggiare, dar avanti tipo che era capisci il suo posto preciso, questo è della provincia di Messina, non ha voluto sapere niente, ci stesse, lasciare libero il passaggio, giorni feriali, giorni festivi, di notte, di giorno, in caso è nescio, quando minchia mi pare il piano